ciao ragazzi bentornati qua sul canale bentornati allora vi porto questo giochino qua che è sulla rubrica scopriamolo insieme in descrizione ci sono tutti i playlist di giochi delle serie e anche c'è questa playlist di scopriamolo insieme e vi invito di iscrivervi al canale ragazzi vi piace un bel commento e vi ringrazio allora vi porto il gioco qua che ho trovato su steam proviamolo un po con me allora ho abbassato un po la musica che non so se il copyright allora l'ho abbassato un pochino sperando che va bene lo stesso anche così allora c'è avventura avvandura sfida approfondimenti ok io direi che andiamo subito avventura c'è l'italiano meno male a cielo c'è l'italiano all'interno di guardia incontriamo e non servono di un allenamento con la spada che viene per interrotterò su un avvento inaspettato ok allora invece di livello facile normale andiamo su normale siamo dei ninja ragazzi ninja come ho letto su steam siamo dei ninja combattimento allora un po cosa prendiamo lui con lei con la coscia di fuori ma io prendo lei con le cosce di fuori e delle due sorelle belle belle davanti allora vediamo un po vediamo un po come il pad in mano questo gioco qua come si fa si fa giocare ok attacco la labetta destra ok 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 basta che noi la facciamo destra sinistra in alto e lei abbassati e lei colpisce cazzo sbagliato ok così poi lb ci spostiamo velocemente così ok perfetto uno è fatto fuori questo qua è un tutorial sicuramente che è successo è infatti già completato abbiamo fatto niente vabbè continuiamo ok ok allora questo gioco qua mi sembra che si può giocare anche in cop mi sembra con un amico mi sembra di seno voglio dirvi una cavolate ma mi sembra che l'ho letto così su steam le recensioni comunque sono abbastanza positive attenzione qui e qua uuuu interessante molto interessante attenzione bello veloce abbastanza veloce ok così attenzione uuu no ho fatto una cosa questo che raccogliamo per terra ci dà la vita mi sembra allora sopra nella barretta gialla c'è scritto che se si è riempita tutta e c'è scritto schiacciare la r vediamo un po' e ho capito che cazzo fa però oh e e aspetta aspetta ah ok cioè diciamo che ha un tipo potere quando si riempia la barretta quella è gialla vieni vieni anche a me chiappia uuu buono eh troppo veloce se voi siete lenti ah così si para perfetto adesso no perché ho sbagliato io ok si si gioca in copp ragazzi perché come leggete sopra c'è scritto premi tab per unirti ora si gioca anche in copp se avete un amico e come vedete è un gioco anche laterale scrimento laterale come potete vedere però non è male sono giochi si sono fatti bene sono giochi belli anche fatti così sono tanti fatti così belli ehi vieni qua ma che guardate che si è bastati piccoli cosa sono i vostri figli in due ho tagliato guardalo comunque ragazzi nell'impostazione si può togliere ok stava parlando allora nell'impostazione comunque si può togliere anche questa cosa del sangue se magari uno non lo vuole vedere magari gioca ancora un bambino si può togliere un'impostazione si può togliere il sangue oh vada questa ah ma si può anche fare il calcio ah ok così così si salta vieni qua vieni stai giù giocare a google deve essere lo stesso sempre il tutorial sicuramente ok andiamo avanti cos'è una barriera ah non si può fare così questa cosa sta pisciando sta cagando cosa sta facendo sta vomitando ma se fai da sola però ragazzi un aiuto ma si può cambiare personaggio vediamo un po' aspettate adesso provo se io faccio le frecce direzionali vediamo un po' vediamo un po' che è qua cos'era cosa ho lanciato non ho preso bello era ah vediamo un po' ah si si può cambiare personaggi con i tasti direzionali sopra destra sinistra adesso prendiamo un po' vediamo un po' cosa cambia guarda questo stronzone anche lui è bello veloce guarda questo questo qua che si farà le bolle è proprio un stronzone vieni vieni fa picco in culo le palle ah eh guarda lì bello figata dai avevo fatto la la mossa speciale ah va cambiamo personaggio questo qua cos'è con l'accetta mettiamoci cos'è qua con l'accetta ok andiamo andiamo avanti vediamo un po' cosa capita ok ok allora facciamo questa ah ma cos'è è un no that doesn't look right si dobbiamo no così no that doesn't look right eh no allora se io faccio questo no perché ah ok fatto un po' di culo però fatto andiamo con un'altra spada un'altra spada aspetta aspetta aspettate facciamo una spada a lui lui c'è la spada no come cazzo dovevo fare non ho capito ah ok 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 ragazzi ho capito dobbiamo fare così andare qua aspettate eccolo qua così con la spada si apre la porta e ho capito e poi l'ho fatto ecco ho capito ma non ce la faccio in tempo si chiude la porta ecco ecco ah ok dovevo aspettare un attimo allora non l'ho capito io va bene va bene fa niente caricamenti abbastanza veloci buono la vita cosa di morta se vuoi spaccato il tavolo si poi è ancora tuo via però voglio usare questa qua ancora non l'abbiamo neanche usata ok allora ogni personaggio ha un'arma diversa più o meno i colpi si sono un po' diversi comunque uno usa la spada uno usa un altro però vieni no salta dai eh si vabbè devi saltare però questi cazzi piccolini mi rompono le palle adesso vieni 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 ho usato ho preso queste palle qua di energia che possiamo usarle anche noi bella figata vieni vieni piccolino vieni viene da casa a quest'ora non puoi giocare fuori torna a casa ok possiamo andare cos'è che botta i nemici rimanono in realtà quindi lascia cadere più sfere che però cambiamo usiamo usiamo sapore ok vieni 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 fatta sferra eh vabbè dai te le paga ce n'è un po' troppi ho usato un po' la 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 tanto quel colino te la vai fuori guarda che questo bastard con la cazzo di sfera di merda vieni qua cosa cazzo il piccolino mi rompe le palle vieni, facciamo fuori subito questo ok, manca solo questo no, un altro piccolino buono, voglio l'energia salta vieni, vieni vieni, sono così morto ancora, che cazzo ce n'è sì, ma faccio vabbè non ho neanche il tempo vabbè, livello normale, non è un livello altissimo però comunque, le mosse sono queste qua neanche ce ne sono tantissime però non ci lamentiamo penso che è un giochino, non è proprio un giocone eh, questo cos'è? non ho mai metto il ragazzo oh, oh ci sono le sfide c'è una specie di avventura c'è storia non so quanto dura la storia sinceramente mi sembra carino così per passare un po' di tempo se uno vuole un gioco un po' easy senza quei giochi un po' pesanti impegnativi graficamente d'impatto mi sembra carino e colorato dai un'occhiata su steam ragazzi, vi va ci vediamo alla prossima sempre qua sul canale se vi piace un bel vi piace e alla prossima ragazzi un abbraccio grandissimo a tutti ciao